Vengono da Nazareth, sono su un asino, lui si chiama Giuseppe e la moglie è incinta. Che fra l'altro però il figlio non è di lui. Esatto. In che senso? Nel senso che il padre vero del bambino è il padre di tutti noi. Ma che state dicendo? E questo è niente, marescia. Il padre e il figlio sono la stessa cosa, tant'è che se tu dici papà, si girano tutte e tre. Tutte e due? E lo Spirito Santo non lo conta. Allora, tutto inizia quando arriva l'Arcangelo Gabriele. Cioè lui arriva da Maria e gli fa l'annunciazione. Maria, Maria, tu partorirai il figlio di Dio. E il figlio di Dio si chiama Gesù. 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 Gesù, ma manco il catechismo ricordo io. Gesù, voglio dire, Gesù.